Hey guys, oggi vi mostro per mettere la stretch support net è molto facile, basta che andate sulla barra di windows scrivete intel intel centro comandi della grafica questo qua per tutti i pc questo, io ho un portatile acero andate su schermo mi apparirà sta cosa mettete la vostra risoluzione preferita tra quella strecciata e quella non strecciata per esempio io uso la 1400x1050 mi trovo molto bene poi qua è importantissimo dopo mettere la risoluzione mettete allungato perché se mettete centrato dopo i bordi vi appariranno neri e abbiamo già fatto ora vi mostro come su Fortnite la risoluzione 1400x10 1050 e così ragazzi vi faccio vedere anche un po' l'ingame molto molto facile qua quando vi si cercherà ovviamente i bordi saranno sfocati eccoci qua con lo stretch ovviamente vi si alzeranno anche gli fps lo faccio vedere anche un po' come così spero che vi sia stato utile bravois e quindi vi faccio vedere anche un po' l'ingame e quindi vi faccio vedere anche un po' l'ingame